Chi ha 30 anni ha un aspetto da 50enne da oggi può prendersela davvero con la mamma. Secondo uno studio americano infatti l'esposizione prenatale allo stress ci regala un invecchiamento accelerato. Tanto che i giovani le cui madri hanno vissuto un trauma psicologico mostrano nel DNA chiari segni di un invecchiamento più rapido rispetto appunto ai coetanei. Parliamo di una media di 3,5 anni per gli uomini e ben 5 per le donne. I ricercatori dell'Università della California a Irvine piegano su PNAS che l'esposizione prenatale allo stress influenza lo sviluppo. Si tratta di una ricerca che ancora una volta evidenzia l'importanza del benessere e della salute materna in gravidanza. Questa è la prima volta in cui si dimostra l'impatto dello stress materno sull'invecchiamento cellulare nell'uomo.